Ciao a tutti, sono Marco Vigilini ed utilizzo Minecraft come strumento educativo a supporto della didattica di tipo Game Based Learning e Project Based Learning. Volevo comunicarvi la possibilità di partecipare alla prima giornata di formazione gratuita su Minecraft Education Edition che si darà lunedì 29 maggio presso la DigiLa Class di Microsoft a Milano. Approfondiremo lo strumento Minecraft Education Edition, una versione creata da insegnanti per gli insegnanti durante l'intera giornata di lunedì e avremo modo anche di dare un'occhiata alle nuove funzionalità che sono state introdotte nell'ultimo rilascio. Mi sto riferendo alla parte di coding. Se io infatti digito slash code nella chat di Minecraft vedete che compare una nuova finestra. Questa finestra mi dà la possibilità di interfacciare Tinker, Scratch che molti di voi conoscono benissimo, è MacBlock con Minecraft stesso. Vi ripeto quindi l'appuntamento lunedì 29 maggio, utilizzo di Minecraft Education Edition per insegnanti. Verrà anche un'insegnante, un'educatrice direttamente da Seattle, America. Tutte le istruzioni per partecipare sotto questo video, in questo link, e verranno anche riportate sul gruppo Facebook Animatori Digitali Lab. Ciao!